bentornati ragazzi nel canale vero eroe academy io sono alex nel video di oggi vedremo come andare ad installare più di 500 filtri completamente gratuiti per il nostro programma di fotoritocco gimp in 30 secondi ok condividiamo subito il nostro desktop il nostro programma di fotoritocco gimp voglio farvi prima vedere una cosa se noi andiamo su filtri vedete che dopo questi dopo python fu e script fu non c'è più niente noi dobbiamo andare installare i nostri filtri qua che sono ovviamente di una società esterna diciamo ok chiudiamo il nostro gimp e andiamo su internet e clicchiamo su questo indirizzo gmic.eu gmic è praticamente un si chiama è l'acronimo di grace is magic for image computing ed è praticamente un framework di filtri che si associano perfettamente ai principali programmi di fotoritocco tra cui ovviamente il nostro principalmente anzi il nostro gimp ok quindi noi cosa dobbiamo fare dobbiamo praticamente andare su download ed è completamente gratis andiamo su download vedete che proprio per prime abbiamo le nostre i nostri programma di fotoritocco gimp e vi consiglio ovviamente di avere almeno una versione recente cioè dalla 2.10 in poi ok proprio perché abbiamo già la versione di gmic stabile noi cosa facciamo andiamo sul programma di installazione punto ex e clicchiamo su stabile e andiamo a scaricare vedete va parte in automatico il download vedete che qua è proprio un ex ineseguibile ci clicchiamo sopra e lui vi dirà ovviamente siccome è di una società esterna probabilmente vi dirà che è potenzialmente dannoso in realtà assolutamente non lo è e vedete infatti pc protetto da windows eccetera noi facciamo ulteriori informazioni e facciamo esegui comunque perché comunque è assolutamente sicuro ok vedete anche le recensioni infatti ok cosa facciamo ritiriamo giù ovviamente qui non aveva ancora chiuso l'impolo andiamo a chiudere tiriamo giù il nostro nostro chrome e vedete che si apre il pop up di installazione quindi noi selezioniamo ovviamente la lingua che più ci aggrada ovviamente in questo caso nostro l'italiano clicchiamo su ok facciamo avanti accetto i termini e andiamo ad installare ok installa lui ci metterà un attimo e vedete che veramente in 30 secondi adesso io vi sono stato un po più lento perché ovviamente vi ho spiegato vi ho fatto vedere ma in 30 secondi veramente andiamo a mettere tantissimi filtri cosa sono ovviamente i filtri sono delle impostazioni di modifiche della nostra foto che vengono fatte in successione ok sono già preimpostate quindi voi cliccate solamente sul filtro vi modificherà la foto di conseguenza e ci sono diversi parametri ovviamente diversi settaggi bene cosa facciamo andiamo ovviamente a riaprire il nostro gimp quindi niente di più facile andiamo a aprire il nostro gimp e andiamo a vedere cosa ci ha installato ok veramente ragazzi abbiamo più di 500 filtri in maniera completamente gratuita cosa che sicuramente ci farà piacere sicuramente andremo ad utilizzare in futuro ok adesso se noi vi ricordate che andato su filtri non avevamo niente invece adesso vedete che qui abbiamo gmic qt ok quindi se noi andiamo ad aprire una nostra foto andiamo su apri recenti andiamo su flower field che è l'immagine che mi è servita per il tutorial precedente della del regalo di natale ok della printable gift andiamo su filtri andiamo su gmic qt lui ci aprirà nel giro di breve nel vostro caso nel mio caso ci metterà un pelo di più perché è un computer come sapete molto basilare per fare questo tipo di tutorial ci aprirà vedete questo pop up con tutti i filtri suddivisi per categoria vedete quindi arrays e tiles che significa vettori artistici bianco e nero colore eccetera ci clicchiamo due volte vedete qui abbiamo la nostra anteprima che possiamo flegare o non flegare lo possiamo spostare qui abbiamo ovviamente i nostri parametri in cui possiamo andare ovviamente a mostrare o non mostrare i loghi e possiamo andare a cambiare la lingua in nostro caso andiamo ovviamente l'italiano possiamo cambiare anche il tema clicchiamo su ok e andiamo per esempio su artisti su artistici per esempio andiamo a vederne un paio vedete se voi cliccate su artistici andate su ad esempio bole vedete lui vi creerà in anteprima vedete questo effetto è già questo qui per creare questo questo effetto su gimp senza avere questi filtri ovviamente bisogna fare diversi passaggi in questo caso basta che voi cliccate sul filtro e già ve lo applica e poi potete andare ovviamente a modificare queste parti e lui di conseguenza vedete qui in questo caso ha aumentato la scala delle bolle andrà ovviamente a cambiarvi il filtro di conseguenza ne vediamo eventualmente un altro giusto così qui potete poi ragazzi sbizzarire potete andare a studiarvele siete solo più di 500 ok quindi veramente fantastici non so andiamo a vedere per esempio il cubismo sempre artistico e vedete che andando a modificare lui vi modifica di conseguenza il filtro sulla foto ok quindi molto carino ok qui potete ovviamente ritornare a le impostazioni iniziali preimpostate e qui importante avete il livello di ingresso ok ovviamente il livello attivo o l'immagine attiva e la modalità di uscita molto importante perché potete sia fare la modifica sul livello che state utilizzando oppure cliccando sulla tendina potete fare cose che vi consiglio nuova nuovo livello ok in modo tale che potete andare a fare su applica ok lui vi creerà il filtro vi andrà ad elaborare vi creerà un nuovo livello sopra quello sottostante sopra quello attivo con il filtro applicato andiamo a vedere clicchiamo su ok e vedete che infatti ci ha creato il nostro filtro ok vedete perfetto ragazzi questo video molto veloce solo per farvi vedere come si installano questi filtri che poi utilizzeremo in futuro vi invito a andarvi a scaricare e andare a provare un po su delle vostre immagini un po tutti questi filtri in modo da prendere un po di confidenza con questo bellissimo framework di filtri ok ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video vi invito a venirmi a trovare anche su instagram nel mio profilo vero underscore roe underscore academy e noi ci diamo appuntamento al prossimo video ciao a tutti